Ben tornati a tutti. Oggi è sabato, 6 gennaio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Sabato stacanovista, ma ben remunerato. Mattinata allegra in montagna o in giro per turismo, vedete tante belle cose, monumenti, musei, chicche d'arte che lasceranno il segno nella vostra anima. Questo almeno dalla parte del viaggiatore, non così idilliaco se invece dall'altro lato della barricata sull'attenti dal mattino presto fino a tarda serata per accontentare i vacanzieri, ma per fortuna con un buon ritorno economico che male non fa. Affari d'oro per tutti e poi movimento, comunicazione, vita, dopo gli anni pandemici proprio il caccio sui maccheroni. Ma forse avete parlato troppo presto, col passaggio della luna pomeridiana in scorpione in quadratura al vostro segno e per giunta in conflitto con Urano, qualche imprevisto anche oggi vi capita tra capo e collo, un indolenzimento, un battibecco in famiglia, un guasto improvviso, un'emergenza di lavoro che vi fa rientrare tardi e scuri in volto dall'azienda. Un uomo che potrebbe mettervi decisamente in difficoltà perché è inaffidabile, senza regole e senza morale, senza giudizio, dissennato, a tratti disonesto e cattivo, egoista. Un uomo vile che si pone sulla vostra strada, freddo e violento. Un amore insoddisfacente, incontri di persone sbagliate. Occasioni pericolose da cui potrebbe essere difficile uscirne indenni. Siate pratici ed essenziali, prendete del tempo per voi, per le vostre cose. Evitate di inseguire gli altri e il tempo che vola via. Siate concreti regalandovi un po' di relax. Usate meglio il vostro tatto e cercate di essere, se vi riesce, più gentili, non è il caso di arrabbiarsi per così poco. Giornata discretamente serena, senza né alti né bassi, solo in tarda serata una immotivata ansia si farà strada nei vostri pensieri, ma passerà presto. Una validissima persona oggi potrebbe proporvi di collaborare a un progetto molto interessante. Buoni, specie oggi, i rapporti con collaboratori e colleghi. Serata in compagnia. Qualcuno vi penserà oggi intensamente, particolarmente un ariete sembra quasi volersi collegare telepaticamente a voi. Ha qualcosa da dirvi. Mettete in ogni cosa la vostra simpatia e sappiate conquistarvi le amicizie delle persone che vi circondano. Buone opportunità per iniziare un'attività per chi ha in progetto qualcosa di simile. Oggi la fortuna assisterà particolarmente in nati di domenica tra le 8 del mattino e le 18 di sera. Tutti gli altri potranno contare su una giornata favorevole anche se non particolarmente esaltante. Giove in opposizione parziale non favorirà oggi le vostre cose. Possibile irritazioni per persone che non gradite e che vi provocheranno in tutti i modi. Venere oggi potrebbe condizionare l'amore, vi potreste sentire aridi e freddi. Mettete da parte piccoli screzi e incomprensioni e chiamate qualcuno che vi ha fatto arrabbiare di recente. La posizione celeste di Giove in rapporto negativo oggi con la luna contribuisce a portarvi qualche piccola contrarietà, tuttavia superabilissima. Da indomiti leoni possedete lo slancio, il dinamismo, la percettività, tutte qualità che vi faranno superare brillantemente qualche complicazione passeggera in famiglia. Forma fisica e mentale al top. Mattinata serena grazie alla luna bilancina leggera e romantica in sé stile. Godetevele queste ore, perché il pomeriggio non sarà altrettanto piacevole, sotto il tiro della luna in scorpione inquadratura al vostro segno e per giunta opposta a Orano che dal punto più alto del cielo, allo Zenit, vi cambia continuamente le carte in tavola. Le emozioni si susseguono contraddicendosi, persino le attività con Marte e Plutone in sesta casa, seguono un andamento a zigzag interessante ma anche molto faticoso. Amore ed Eros. Gentili e affettuosi con il partner, i figli, gli amici almeno in mattinata quando siete di luna buona, al punto che più che leoni agguerriti sembrate grossi micioni tenerissimi. Basta però un non nulla per ridestare la fiera che sonnecchia in voi, una critica a vostro dire in equa, una mancanza di rispetto ed ecco che sfoderate l'artiglio con una zampata micidiale che rischia di ferire anche oltre le vostre intenzioni. Nervoso anche il quattro zampe che risente palesemente della vostra attenzione, proprio vero, Dio li fa e poi li accoppia. Mercurio e Venere entrambi benefici vi obbligano a un maggior impegno sul piano emotivo e sentimentale, tanto se avete una relazione stabile, quanto se siete in una storia più disimpegnata e anticonvenzionale. Siete stimolati a volere il meglio, in ogni caso, ma a volte vi trincerate dietro motivazioni di incombenze e di occupazioni varie che appaiono quanto mai pretestuose. La posizione celeste del sole farà sì che sia il vostro stesso animo espansivo a portarvi poi a imboccare la direzione giusta e proprio con la persona che fa per voi. In special modo se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade. Lavoro e denaro. Se siete già rientrati al lavoro oggi qualcuno vi farà vedere rosso, un nome a caso, il vostro capo, ma potrebbe trattarsi anche del cliente spocchioso convinto di vantare diritti sugli altri avventori del vostro esercizio commerciale. Si sbaglia di grosso e al costo di non vederlo comparire mai più non vi tenete gli dite sul muso tutto ciò che pensate, snobbando la vecchia regola secondo la quale il cliente ha sempre ragione. Ma quando mai? Benessere. Vi svegliate bene, freschi e riposati, ma poi col passare delle ore cominciate ad avvertire tensioni, stanchezza, malumore e magari anche qualche indolenzimento, peggio ancora dopo una caduta o un inciampo. Succede spesso quando si pratica sport o ci si muove in luoghi un po' sconnessi, magari guardando non dove si mettono i piedi ma qualche scorcio attraente o qualche interessante dettaglio architettonico e così. Un lieve stiramento, un livido o un'escoriazione lasciano il proprio marchio su tutta la giornata, in primo luogo sul tono emotivo. Per un re o una regina del leone quant'è imbarazzante fare una figura del genere. Per lei, ci mancava proprio la telefonata della suocera che vi invita a festeggiare l'epifania da lei, una bella idea per i bimbi che riceveranno regalini e dolci squisiti fatti con le sue mani, ma per quanto vi riguarda le feste dovevate proprio chiuderle a casa della Befana. Per lui, notte agitate da incubi, forse stata sognando la vostra ex a cavallo di scopa, ma a differenza della Befana non vi porta regali, soltanto carbone e conti da pagare. Colore delle emozioni, verde pistacchio. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 5, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.